Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte. Come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo Governo non lavora col favore delle tenebre, questo Governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Se ha qualche proposta da portare, la porta chiaramente guardando negli occhi tutti gli italiani. L'Eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo. È una menzogna questa. Secondo, su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato quindi a questa proposta, che non è ancora completata, ma è sul tavolo, di una linea di credito collegata a questo strumento che già esiste, MES, totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate. Terzo, e ad essere ancora più chiari, l'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES. Non ha bisogno del MES, l'ho già dichiarato.